Come erano presenti associazioni, l'attivista antimafia Tiziana Ronzio, fondatrice Tor Piubella e Maricetta Tirrito, coordinatrice a Woman a Woman e entrambi per mesi hanno accompagnato Don Coluccia nelle iniziative contro la droga a Tor Bellamaca. Maricetta Tirrito, colpita nell'assetto bottiglia birra piena, lanciata violentemente da uno dei reggenti della piazza della droga. Un non-eu che ha cercato riprendere il possesso dei locali. È stato fatto per fare i costi del. Immediatamente dopo aver portato via il divano è apparso un gentiluomo che ha iniziato a urlare e correre ma abbiamo continuato. Quindi io stesso ho trovato un macete non lontano dal divano. E si è ancora più nervoso. La tensione è salita alle stelle e le vedette dalla strada hanno ricevuto l'ordine dal Capiclan. Che ha girato i SUV lungo strada. Per bloccare l'iniziativa e poco prima di pranzo la tensione ha provocato violenza. L'uomo ha continuato a urlare da dietro un cancello e improvvisamente abbiamo visto una bottiglia. Volare che ha portato Maricetta nel mezzo. Colpendo la spalla destra. Continua Nicola Franco. Rating of the Radial Capital. Braccio piantato dalla spalla verso le dita e 25 giorni di prognosi. Residenti e operatori non arruolati. Ma il finonodo è accaduto. Nicola Franco si è schiantato contro l'attaccante. Che è stato fermato e portato alla caserma dalla caserma carabinieri di escorta Tiziana Ronzio. Mentre Tirrito veniva portato al pronto soccorso del casilino di policlinico. Nonostante i tentativi di fermarci. Non ci riuscirono e oggi gli abbiamo impedito di trasmettere. Spiega Maricetta Tirrito che aggiunge non fermarmi la condanna Don Coluccia immediata quello. Successo oggi a Tor Bella Monaca Serio. Un volontario veniva da Ostia aiutare le donne e le madri del quartiere a ripulire strada nelle mani dei commercianti droga. Stato colpito dal lancio una bottiglia lo avrà per 25 giorni. Considerato la frattura del braccio. La strada in cui avevano organizzato questa incomiabile iniziativa. Ho anche partecipato insieme alle istituzioni. Lama la polizia. Droga spaziava da manovalanza nordafricana. I minori hanno pagato lo più poco coinvolti in attività amorevoli vendita.